Siete due combattenti alla fine, però io devo decidere e devo decidere per chi di voi due credo possa regalare un'emozione in più, anche se stonando. Aile! Abbraccio te, aspetta un attimo. Mi dispiace. Anche a me. Mi dispiace tanto. Anche a me. Però, vabbè, è andata così. L'inedito sta andando molto bene, Narisa, come tutto quello che farai fuori di qui. Grazie, grazie a tutti. Oh, spacca, mi raccomando. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.